oh ciao sofia che bello vederti sto facendo una passeggiata al palazzo di ghiaccio mentre uno dei miei elfi da da mangiare alle renne sta dando loro dei licheni magici sono ciò che le fa volare quando avranno finito farò un volo di prova con loro intorno a tutto il mondo e chissà potrei volare sopra dove vivi tu a palermo ecco la galleria del palazzo di ghiaccio qui appendiamo le fotografie più belle sofia ecco la tua hai dieci anni non è vero e fai la quinta elementare so che c'è un dono speciale che ti piacerebbe ricevere fai parte della mia lista dei buoni quest'anno spero di sì mamma natale gli elfi e io abbiamo un sacco di sorprese per te sofia devo fare il mio solito giro con le renne ora puoi usare di nuovo la tua console polo nord portatile per parlare con me buon natale ho 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 se adesso mi cuorecini e benvenuti in questo nuovo video avete visto già prima che apprendete babbo natale mi ha mandato il messaggio e ha detto che sono stata molto brava e quindi visto che si sta avvicinando natale adesso andremo a scrivere le cose che vorrei per natale ok scriviamo qua c'è scritto caro babbo natale vorrei tanto riscriviamo i due punti e lo remix poi virgola lol omg premix sempre perché non l'ho mai avuta poi la nana nana surprise vabbè nana nana serie 3 3 poi present pets non so se ne conosciute però è una scatola poi lo vedete a natale dopo natale farò ovviamente il video poi la cosa da sirena perché anche se non esistono le sirene e mi piacciono perché io vorrei essere un pesce e poi è la nana nana big surprise big surprise e voglio quella nera da sofia non ti dimenticare di ma i miei cuoricini rileggendo questa lettera sono la maggior parte della giochi preziosi quindi è meglio se la spedisco alla giochi preziosi che a babbo natale però ovviamente la smedirò a babbo natale questo è sicuro perché c'è che questo se non è un babbo natale quindi e va bene il mio cuoricini se vi è piaciuto questo video lasciate tantissimi like iscrivetevi qua al canale per non perdere i miei video attivate la campanellina per non perdere nessun video che caricherò e commentate su instagram mi chiamo così o sulla community qua e cosa volete voi per natale lo potete scrivere nei commenti ovviamente e saluto a salvatore, sauda, chiara, samira, francesca e melissa e ciao i miei cuoricini e ci vediamo al prossimo video ciao ciao